Oggi vi voglio parlare del tempo, ma non il tempo meteorologico. Su quello posso dirvi solo una cosa, che il tempo meteorologico in montagna è importante, ma non bisogna sopravvalutare le giornate di sole. Anche una giornata così può essere stupenda, l'importante è che non ci sia temporale. No, vorrei proprio parlarvi del tempo come grandezza fisica. Il tempo è un argomento davvero complesso, soprattutto perché si trova al confine fra filosofia e fisica. Il confine a volte è molto sottile, nel caso del tempo forse è inesistente. Conoscendomi, voi sapete che insegno fisica, vi aspetterete un video probabilmente molto improntato sulla fisica. Invece non sarà così. Beh, per quanto riguarda un ambito un po' scientifico, una concezione fisica e scientifica del tempo, in pratica possiamo riassumere in un minuto la storia del tempo in questo modo. Ci sono stati tre step, in pratica, che sono Aristotele, Newton e Einstein. Aristotele pensava che il tempo fosse semplicemente ciò che consentisse agli eventi fisici di accadere e quindi fosse un mezzo con il quale le cose possono cadere, i fiori possono sbocciare, il sole può muoversi nel cielo e questa concezione giunge alla conclusione che se non ci fossero fenomeni fisici non ci sarebbe lo scorrere stesso del tempo. La concezione del tempo di Newton invece era profondamente diversa perché era vista in maniera assoluta, cioè il tempo in pratica è qualcosa che scorre al di là del fatto che accadono o non accadono delle cose. In un ipotetico universo vuoto, senza nulla, senza fenomeni fisici, quindi il tempo scorrerebbe allo stesso modo. Con Einstein le cose cambiano radicalmente, l'abbiamo visto in alcuni video. Il tempo non è più visto come una grandezza fisica a sé stante, ma ha senso di esistere solo come parte di un'entità più complessa che si chiama spazio-tempo. Spazio-tempo che è influenzato dai campi gravitazionali creati dalle masse. Quindi ha senso parlare di spazio-tempo in presenza di corpi dotati di massa. Ma oggi a me interessa più che altro parlarti della percezione del tempo dal punto di vista filosofico, cioè come proprio l'essere umano, la mente dell'essere umano percepisce lo scorrere del tempo, in che modo ha la sensazione che il tempo scorra, che cos'è il passato, cos'è il futuro. Quello che ho nella mente mia potrebbe essere completamente diverso da quello che è nella mente tua. E quindi vediamo quali sono le correnti di pensiero che riguardano il tempo. Abbiamo tutti visto almeno una volta una cosa del genere, una linea del tempo, ce l'hanno fatta vedere già alle elementari, ancora prima di fare qualsiasi materia scientifica, parlandogli storia, la linea del tempo è importante per collocare in ordine una serie di eventi. E bene o male tutti abbiamo visto quel pallino centrale che rappresenta il presente, tutto ciò che c'è prima del presente lo chiamiamo passato, tutto ciò che c'è dopo il presente lo chiamiamo futuro. E bene o male tutti abbiamo in mente il concetto dello scorrere del tempo. Nessuno pensa che il tempo sia fermo, no? Lo scorrere del tempo è una cosa che percepiamo, ci stiamo muovendo dal passato verso il futuro. Ma adesso per capire le varie forme di pensiero a riguardo, dobbiamo farci una domanda. Di tutte le cose e le persone, gli esseri viventi, insomma, tutto ciò che è esistito nel passato, tutto ciò che esisterà nel futuro, tutto ciò che esiste adesso nel presente, Adesso, noi che cosa consideriamo reale? Che cosa pensiamo che in qualche modo esista? Beh, vediamo le risposte che hanno dato i filosofi a questa domanda, poi alla fine ti dico anche qual è la risposta che piace di più a me. Per il cosiddetto presentismo, come dice la parola, esiste solamente il presente, non esiste tutto ciò che c'è nel passato, non esiste tutto ciò che ci sarà nel futuro. Il presente è come la fotografia dell'universo in questo momento, e ha senso parlare solo di quello. Queste bellissime foglie primaverili, appena spuntate, esistono nel presente, e siamo a primavera 2023. Esistevano a primavera 2022 altre foglie, altrettanto belle, ed esisteranno altre foglie a primavera 2024, ma di quelle foglie non ci interessa nulla. Il presentismo si interessa solo di queste. E in un certo senso, non sembra sbagliata una visione di questo genere, ma perché non ho ancora sentito le altre. Un altro modo di vedere la cosa è immaginare che esista sia il passato che il presente. Questa visione filosofica si chiama incrementismo, e in pratica tutto ciò che ci rimane alle spalle continua a esistere, un po' come una scia. Un po' come se vedessimo noi che costruiamo una torre di mattoncini, mano a mano aggiungendo sempre mattoncini a quelli precedenti, non potendo eliminare quelli sotto, non avrebbero senso i mattoncini presenti, senza quelli passati. Quindi esistono sia queste foglie, che esistono allo stesso modo, hanno la stessa dignità di esistere anche le foglie passate. E del resto anche questo, ha un certo senso, perché le foglie passate in fondo sono finite nel terreno, e dal terreno sono ritornate nell'albero in qualche modo, è una cosa anche abbastanza poetica. La terza visione è l'erosionismo. L'erosionismo è davvero strano, perché in pratica percepisce l'esistenza come solo sensata nel presente e nel futuro. Tutto ciò che nel passato scompare, smette di esistere, smette di avere significato. Noi in pratica stiamo percorrendo un sentiero, come me, e ci occupiamo, pensiamo, ai passi che stiamo facendo, pensiamo al sentiero futuro. E qua bisogna fidarsi di me, questo è il Monte Freydur, con la sua splendida vista. Ma veniamo al quarto modo di vedere il tempo, forse lo stai intuendo. Questo quarto modo si chiama eternalismo, e in pratica vede il tempo come un'unica linea, piena di cose, eventi, tutte ugualmente esistenti. Esiste ciò che c'era nel passato, esiste ciò che c'è adesso, esiste ciò che ci sarà nel futuro. Tutte allo stesso modo. Noi semplicemente stiamo viaggiando su questa linea, è come fossimo su un treno che vediamo scorrere un paesaggio che c'è, sia prima che dopo di noi. Gli estremisti di questa visione, di questa filosofia, addirittura fanno scomparire il concetto di presente. Cioè, vedono il tempo come un blocco unico, senza distinzione tra passato, presente e futuro. Tutto esiste, e basta. C'è poi un'altra importante distinzione tra due stili di vita, diciamo, due modi di pensare, i modi di vedere il tempo. È quella che distingue il futuro chiuso dal futuro aperto. Chi pensa che il futuro sia chiuso in pratica pensa al determinismo, cioè vede il futuro come una linea unica, un binario, che noi siamo costretti a seguire. Non siamo magari in grado di prevedere che cosa succederà nel futuro, ma in realtà quello che succederà è quello, è già deciso, perché i fenomeni fisici in fondo funzionano così. Conoscendo tutte le variabili noi possiamo prevedere che cosa succederà. Chi invece concepisce un futuro di tipo aperto in pratica non vede una sola possibilità nel futuro, ma vede un futuro ramificato, come potrebbero essere questi alberi, che mano a mano che salgono si biforcano in tanti rami, sempre più piccoli e sempre più distanti fra di loro. Questa è la visione che hanno anche alcuni fisici, non è assolutamente una cosa poco scientifica, da quando si parla di fisica quantistica si è cominciato a dubitare un po' del determinismo, del fatto che tutto si possa prevedere, perché si è scoperto che alcune caratteristiche fisiche, soprattutto a livello microparticellare, possono essere tante cose contemporaneamente, entra in gioco la probabilità. E allora, filosoficamente entra in gioco quello che chiamiamo libero arbitrio, no? Possiamo decidere che strada prendere, in realtà ogni decisione che prendiamo crea un bivio e crea un futuro differente. Ci sono infiniti futuri differenti, paralleli. Ovviamente dobbiamo anche menzionare chi crede, chi pensa, chi ama pensare che noi ci troviamo già, in realtà, in un futuro ramificato, quindi ci troviamo in uno degli infiniti universi paralleli, cosa che in effetti ha senso. Ok, adesso è venuto il momento di dirvi come la vedo io. Premetto che tutti questi pensieri che abbiamo visto hanno pari dignità di esistere. Stiamo parlando di filosofia. Ognuno la pensa come vuole e il bello della filosofia è proprio capire come pensano gli altri diversamente da noi. La cosa può aprirci delle domande, ci può far ragionare su cose su cui non avevamo neanche mai pensato. Io, ovviamente, sono abbastanza legato al mondo scientifico, per cui non riesco a spostarmi tanto dal presentismo. Il presentismo, secondo me, è tra quelle cose che abbiamo visto e la visione più sensata. Esiste il presente. Ma per quanto riguarda Futuro Aperto Chiuso a me piace l'idea del Futuro Aperto. Considero giusta l'idea del Futuro Aperto. Ma non solo, sono molto affascinato dall'idea del Passato Aperto. Forse sono influenzato dalla visione dello spazio-tempo nel diagramma di Bikowski, però mi piace pensare che in realtà il presente in cui mi trovo può derivare da più possibili passati. Per cui mi vedo presentismo, mi vedo Futuro Aperto, mi vedo Passato Aperto. Questa è la mia visione del tempo. E scorro dentro questo strano albero che ramifica da entrambe le parti. Ma non solo sono presentista dal punto di vista, diciamo, scientifico, ma anche dal punto di vista pensandoci personale. Perché noi siamo in realtà, secondo me, stati abbastanza ingannati da questa visione della linea del tempo. Io da bambino me la ricordo, questa è la linea del tempo, quando si studiava storia e ho immaginato anche il futuro. Insomma, quando ero piccolo io si pensava che adesso ci sarebbero state le macchine volanti, per esempio. Comunque questa linea del tempo, rispetto al puntino in cui mi trovavo io, mi sembrava davvero qualcosa di gigantesco, incommensurabile. Tant'è che il puntino presente mi è sembrato subito qualcosa di insignificante. E questa è una cosa, in effetti, che dà fastidio, è una cosa che emette un po' di ansia, perché se ci pensi, il presente così compresso fra questo enorme passato e questo enorme futuro smette quasi di esistere, no? È come un confine fra due cose, è come la superficie dell'acqua, sotto c'è acqua, sopra c'è aria, ma la superficie cos'è? Eppure secondo me questa è una grande fregatura, perché in quel puntino c'è tutto l'universo, ma c'è tutto l'universo sia fuori che dentro di me. E bisogna smettere di pensare e dare tanta importanza a ciò che è stato e a ciò che potrebbe essere nel futuro, ed è quello che facciamo noi mentalmente, certe volte, e sprechiamo un sacco di tempo a pensare cosa sarebbe potuto succedere e cosa potrebbe succedere nel futuro, anziché pensare a cosa sta succedendo adesso e cosa facciamo adesso, in questo momento. E questa è una cosa importante secondo me da imparare, perché davvero in quel puntino se andiamo a guardare bene c'è tutto l'universo. Grazie a tutti.